mamma mia non mi sono preparato nulla non so bene che cosa che cosa cioè so cosa dire perché ci sono tante cose uscirà sicuramente tutto l'amore tutta la passione che ho messo in questo libro perché è stato forse il lavoro da cinque anni a questa parte in cui ho veramente dato più di tutto adesso io non ve lo posso aprire perché siamo in fase di pre order quindi io non posso aprire il libro a proposito qua sotto trovate il link per preordinarlo ma io cercherò comunque di trasmettervi tutto ciò che c'è in questo libro ci ho messo un bel po di tempo a decidermi di scrivere un libro proprio perché io non volevo fare il solito libro raga cioè io volevo creare un qualcosa che davvero potesse essere iconico quantomeno per la cucina di montagna si chiama un po più su la mia cucina di montagna per tutte le stagioni mi sono fatto ispirare dal mio balcone di casa ogni volta che uscivo tutti i giorni sempre un cambiamento del panorama e man mano che le stagioni passavano il contesto si trasformava e io ho capito che la montagna davvero può dare molto di più rispetto a quanto si pensa non ci sono solamente le ricette tradizionali noi canederli lo strudel che comunque quelle ricette qua ci saranno dentro e tra l'altro rispetto a quelle che trovate sul sito molte di queste sono addirittura migliorate qui ma ci sono anche delle ricette perfette per delle esigenze che con la montagna le vedresti un po slegate no che ne so quando hai fretta delle ricette che profumano di montagna ma che si fa in fretta a preparare ci sono quando vuoi qualcosa di leggero puoi comunque prepararti qualcosa di montano ma che sia leggero quando vuoi qualcosa che ti dà l'effetto wow qua lo trovi io ho voluto creare un libro perfetto per varie esigenze che ognuno di noi ha facendo respirare ad ogni facciata la montagna perché ogni ricetta è stata scattata in esterna scattata da me da ottobre settembre ottobre fino a finire a luglio più o meno poi ovviamente ho dovuto scrivere il libro che nel frattempo lo scrivevo già durante l'anno e quindi è per questo che ci ho messo così tanto io non ho avuto fretta perché volevo seguire proprio il ritmo della stagione per far respirare la stagione autoctona alle persone le ricette sono 80 in totale 20 per stagione e poi qua trovate anche una rubrica oltre appunto queste 80 ricette a cura di mia mamma dove vi insegna a fare le creme gli unguenti i gemmo derivati che non si trovano neppure online con ingredienti naturali che ci saranno tutti i passaggi in questo libro c'è anche tanta famiglia che ha sempre voluto nascondersi quando era ora di registrare dei contenuti ma in questo libro hanno accettato di esserci anche con delle fotografie forse perché il libro sembra sempre più concreto e quindi loro hanno detto sì ok davide ci stiamo all'idea ci saranno degli scatti che raccontano dei momenti che per me sono quotidianità tipo non so vedere mio fratello che va a raccogliere delle foglie secche ecco in autunno per fare un giaciglio caldo alle galline ci saranno tanti panorami ad ogni cambio di stagione ci sarà il panorama che vedo dal balcone di casa che si trasforma e poi ci saranno proprio i racconti no che vi serviranno per catapultarvi di più nella stagione cosa vuol dire trascorrere l'autunno qua cosa vuol dire trascorrere l'inverno qua e poi una cosa che proprio io ci tenevo tanto è che questo libro io l'ho voluto dedicare a mia nonna e alla mia nonnalina che magari alcuni di voi avranno conosciuto perché lei mi ha lasciato quando ho iniziato a scriverlo questo libro e quindi mi sembrava giusto dedicarlo a lei scontato che pianga spero che vi piaccia lo trovate in tutte le librerie dal 22 di ottobre in tutte le librerie fisiche in tutte le librerie online e adesso sull'online trovate il preorder quindi se volete preordinarvelo io vi lascio come vi dicevo all'inizio il link per farlo qua sotto in descrizione poi magari durante i mesi o anche i giorni aggiungerò dei link di preorder per vari siti che ci sono a disposizione e poi vi scriverò anche magari ogni tanto tenete d'occhio questo libro questo video perché ci saranno anche delle degli appuntamenti che farò dal vivo perché sicuramente magari dei book tour ci saranno dei firmacopie e quindi io vi scriverò tutto man mano che saprò che così almeno vi organizzate io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo libro video tutto e noi ci vediamo alla prossima vi mando un grande bacio e insomma fatemi sapere e se vi siete fidati di quello che vi ho detto e vi sta ispirando tutto i link sapete dove sono grazie a tutti grazie a tutti